Quando tutto sembrava caderti di nuovo addosso è arrivato l'Avellino nel 2013 che ti ha ridato fiducia e tu anche prima hai detto non smetterò mai di ringraziare anche la società Biancoverde. Penso che sia al minimo, è normale che mi hanno preso da sette mesi di inattività e mi hanno rimesso in campo. Io non dimentico chi mi ha fatto del bene, soprattutto nei momenti di difficoltà. Penso che in quelle due annate di avergli dato tutto sotto il profilo dell'onestà, dell'impegno, della dedizione è normale che la storia poteva avere un finale diverso, parlo di se non fosse stata per quella traversa di Castaldo però significa che doveva andare così, porto nel cuore i colori bianco-verdi con grandissima stima e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per il futuro perché comunque sono persone che lo meritano.